grande fratello vip 3 da francesco monte a giulia salemi chi entrerà nella casa gf vip 3 news grande fratello vip 3 cast eccole donatella silvia e giulia provetti e poi facciamo il punto su chi entrerà nella casa grande fratello vip 3 cast marty ambi sexy meteorologa di canale 5 benedetta mazza e gf vip 3 news grande fratello vip 3 news sul cast ci avviciniamo alla data di partenza del reality show media set in onda su canale 5 con ilary blasi e alfonso signorini sempre al comando spy fa il punto sui concorrenti da walter nudo e ivan cattaneo da francesco monte a lisa fusco fino alle donatella silvia e giulia provvedi e leonora giorgi al campione olimpico fabio basile ma ci sono anche come enrico silvestrini jane alexander il comico romano maurizio battista l'ex velino di striscia elia fongaro lo chef lanciato dalla prova del cuoco andrea mainardi il volto rai benedetta manza l'ex di day in mello stefano sala martina andi volto delle previsioni meteo del tg5 e giulia salemi la persiana di pechino express punto all'appello? mancano solo i nomi di due donne questo è il resoconto di spy qui sotto leggete le precedenti puntate sui rumors relativi al grande fratello vip 3 punto grande fratello vip 3 cast lisa fusco francesco monte e gf vip 3 news grande fratello vip 3 quasi pronto si parte lunedì 24 settembre in crime time su canale 5 in ariblasi conduttrice facciamo il punto sul cast tra certezze e rumores insistenti uno dei nomi più attesi è quello di francesco monte con lui il comico maurizio battista che ha confermato la sua partecipazione al gf vip 2018 e le donatella silvia e giulia proventi secondo tv blog nel cast del grande fratello vip 3 ci sarà anche fabio basile protagonista in passato di ballando con le stelle e campione olimpico di judo alle olimpiadi di rio 2016 vincitore della 200esima medaglia d'oro nella storia dell'italia ai giochi olimpici estivi nella casa pure walter nudo che vinse la prima edizione dell'isola dei famosi l'attrice jane alexander e il cantante ivan cattaneo che disse no alla prima edizione del reality e questa volta si è convinto è ancora enrico silvestrino giulia salemi ed eleonora giordi il gf vip 3 avrà nel cast anche la sobretto lisa fusco che nella scorsa edizione fu protagonista per le sue sorprese all'amico cristiano malgioglio ed è amica di giulia dell'elisa punto grande fratello vip 3 cast news e rumores delle scorse settimane grande fratello vip 3 cast giulia salemi gf vip 3 news giulia salemi al grande fratello vip 3 litri ex concorrente di pechino express ha risolto gli ultimi dubbi e dopo alcuni tentennamenti ha deciso di accettare la proposta fatta da mediaset lo riporta il fatto quotidiano giulia salemi era stata contattata anche in passato per partecipare al grande fratello vip ma la showgirl lo scorso anno preferì proseguire la sua avventura nel cast di sbandati questa invece sembra essere la volta buona punto grande fratello vip 3 francesco monte e antonella elia scambio con tale e quale show gf vip 3 news ci sarebbe stato una sorta di scambio tra i possibili concorrenti del grande fratello vip 3 di canale 5 e quelli di tale e quale show condotto da carlo conti su rai 1 punto secondo tv blog francesco monte ha deciso di abbandonare l'opzione tale e quale show di cui aveva sostenuto un provino qualcuno dice modesto per dedicarsi ad altro si legge sul sito di contro in una sorta di percorso inverso antonella elia che vi abbiamo detto farà tale e quale show 2018 in un primo momento pare fosse destinata ad entrare nella casa di cine città poi si è deciso da più parti di far entrare l'ex valetta di mike buongiorno nel cast di tale e quale show grande fratello vip 3 cast fabrizio corona special guest star gf vip 3 new fabrizio corona al grande fratello vip 3 e forse ma non da concorrente secondo i gossip che circolano negli ultimi giorni potrebbe avere un ruolo stile special guest star un corona presente spesso e protagonista al gf vip 3 che partirà a fine settembre su canale 5 condotto ovviamente da ilary blasi per rivedersi e confrontarsi con la sua ex fidanzata silvia provvedi che parteciperà insieme alla sorella giulia provvedi vedi sotto i due si sono lasciati in queste ore si è parlato di un fabrizio corona legato alla bellissima zoe cristofoli mentre i gossip su silvia provvedi parlavano di una scintilla scoccata con benji chissà che il grande fratello vip 3 non porti i due a qualche confronto in diretta tv che, che c'è da scommetterci porterebbe grandi picchi di auditel per canale 5.le donatella al grande fratello vip 3 e silvia provvedi e la sua gemella giulia potrebbero entrare nella casa del programma di canale 5 il duo musicale donatella, come noto continua grande fratello vip 3 katrin kelly langbrook di beautiful smentisce gf vip 3 new posso dire che non è fra i miei progetti futuri katrin kelly lang confessa di più che non andrà ciao 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 Grazie a tutti